F di Z uguale 1 fratto Z4 meno 5Z più 6 la parentesi che moltiplica Z meno 1 al cubo no, sotto, sotto ragazzi vogliamo che la cosa va a decomporre questa funzione razionale in fratto come abbiamo visto oggi allora scomponiamo troviamo le radici del denominatore quindi troviamo le radici del denominatore troviamo Z4 meno 5Z più 6 uguale a 0 per la mia scrittura per caperci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti che Quindi le radici sono due etne, dell'iniziativa quadro prima cinque zeta più sei. Quindi in generale, chi sono le radici del denominatore? Ecco, due, tre e uno, quindi cancelliamo tutto, le radici di zero. Riesciamo di zero, di zero di zeta quadro, meno cinque zeta, più sei, tra parentesi, per zeta, meno uno al cubo, sono uno, due e tre. D'accordo? Allora, qual è l'ordine? Sono zero di che ordine? Allora, due e tre sono zero, vediamo un po' come si scompone, questo possiamo scomporre con uguale. Allora, due e uno zero di che ordine? Per il denominatore, uno zero di ordine, tre e uno zero di ordine, e uno e uno zero di ordine. Scriviamo, punto, precisamente, uno e uno zero di ordine tre, due, e uno zero di ordine a uno, tre e uno zero di ordine a uno. Quindi, in conseguenza, che tipi di poli sono questi per la funzione f di zeta? Dunque, dunque, uno che tipo di poli è per la funzione f di zeta? Se zeta zero è uno zero di ordine n per la funzione g di zeta, è un polo di ordine n per la funzione 1 su g di z. D'accordo? Quindi, vedete che uno è un polo di ordine tre per f. 2 è un polo di ordine n per f. E' un polo di ordine n per f. Ragazzi, questo lo vedete, non lo vedete, guardate. Perché ho detto che uno è un polo di ordine tre per f? Cosa vuol dire che è un polo di ordine tre? Perché se moltiplico questa funzione per zeta meno uno al cubo e faccio linea per zeta che tende a uno, lì deve essere diverso. Un numero complesso che sta a zero. Se moltiplico per zeta meno uno al cubo, questo sparisce. Vi trovate? Resta questa. Per zeta che tende a uno, cosa viene? Quindi, meno uno per meno due. D'accordo? Meno due. Perché è diverso da zero. Perché due è un polo di ordine uno? Devo moltiplicare per zeta meno due alla uno. Quindi per zeta meno due. Questo sparisce. Devo fare video per zeta che tende a due. Faccio dire che zeta tende a due. 2, meno tre e meno uno. 2, meno uno e uno. Quindi limite uguale a zeta e a due. D'accordo? E così da. Due rame del tagli senza passare a prevenzione. D'accordo? Allora, abbiamo trovato il denominatore che si annulla nei punti 1, 2 e 3 che sono, rispettivamente, che sono i poli di ordine tre, 1 e 1. D'accordo? Allora, cosa dicevi tra le decomposizioni di questa mattina? Dicevi, questo. Consideriamoci uno sviluppo di questa funzione rispetto allo sviluppo di dola di questa funzione intorno al punto 1. D'accordo? Siccome 1 è un polo di ordine 3, la parte caratteristica, quando i termini saranno fatte? Che composta? Al più da tre termini. Sicuramente il termine 1 il termine 1 fratto z meno 1 al cubo è quel piccolo interverso da 0. Quindi la parte, se vi faccio, se faccio, se c'è lo sviluppo di dola di f in intorno al punto 1, in intorno al punto 1, la parte caratteristica sarà il tipo che abbiamo a fratto z meno 3 più b fratto z meno 3 al quadrato più b fratto z meno 3 al quadrato più c fratto z meno 3. riprovate? Se faccio, se scivo lo sviluppo di lavorare di questa funzione dell'intorno al forato del punto scusate, il punto ha detto 1, eh, intorno al punto 1, essendo 1, un polo di ordine 3, la parte caratteristica ha questa espressione. Dove non sappiamo b e c, b e c potrebbe essere e 2 a b 0 o 1 di 2 uguale a 0. Ma la base di cura è che a è diverso da 0. Sui b c non saprai cosa fanno b e c, però su una idea è diverso da 0. D'accordo? E tutti gli altri te ne non ci sono da parte caratteristica. Poi, consideriamo lo sviluppo di l'orà della f in intorno forato del punto 2. D'accordo? Siccome 2 è un polo di ordine 1, la parte caratteristica ha soltanto un termine. C'è il termine di fratto 0 di l'orà. D'accordo? Poi, consideriamo il punto 3. 3 è un polo di ordine 1. Quindi, se consideriamo lo sviluppo di l'orà in intorno del punto 3, la parte caratteristica continua non solo termine. Z meno 3 quindi è Z meno 3. D'accordo? Quindi, questa è la parte caratteristica dello sviluppo di l'orà in intorno del punto 1. Questa è la parte caratteristica dello sviluppo di l'orà in intorno del punto 2. questa è la parte caratteristica di l'orà in intorno del punto 3. Cosa dice il teorema di sabattina? Che questa funzione la posso decomporre come la somma di queste parti caratteristiche. d'accordo? D'accordo? Abbiamo i coefficienti a, b, c, d ed e adesso. specchiando a questo punto cosa non c'era la parte di sotto ragazzi seguite i compiti perché se facciamo piccoli non ci troviamo più piccoli di sottofondo e quindi controllate bene però voglio trovare i coefficienti ci sono diversi modi di trovare i coefficienti 1 un modo è il quello che vi ho suggerito stamattina vado a fine elezioni stamattina di trovare i coefficienti dopo lo appliceremo pure però alcuni coefficienti si possono individuare molto facilmente perché come faccio se vogliamo calcolare A quello sta a calcolare A guardate posso moltiplicare ambi membri per z meno 1 al cubo quindi qua sparisce z meno 1 seguite qui sparisce qui viene z meno 1 al cubo qua viene z meno 1 al cubo qui è z meno 1 al cubo e qui è z meno 1 al cubo e faccio il limite per z che tende a 1 d'accordo? questo qua tende a 0 non va a 0 qua va a 0 qua va a 0 qui va a 0 resta soltanto A facciamo per il bene poi lo faremo per moltiplare ragazzi A di membri per z meno 1 al cubo questo viene 1 fratto z meno 1 solo questa volta lo facciamo ragazzi però non faremo più questo dei dettagli no scusa no si così finito grazie a tutti grazie a tutti d'accordo? ragazzi questo si semplifica questo si semplifica questo si semplifica questo si semplifica adesso stiamo al limite in ampi membri per z che tende a 1 quando z tende a 1 cosa succede? qui resta qui questo tende a 0 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 questo tende a meno 1 quindi questo tende a 0 questo tende a 0 e questo tende a meno 2 quindi questo tende a 0 quindi questo fatto implica per z che tende a 1 che a destra è stato soltanto a ritrovate la stessa cosa viene per z che tende a 1 viene 1 meno 2 fa meno 1 questo fa meno 2 un mezzo a uguale a 1 mezzo ritrovate? quindi la stessa cosa è uguale a 1 mezzo ritrovate ragazzi? vabbè, quindi avrei trovato il coefficiente più 1 fra z meno 1 al cubo io adesso vorrei fare la stessa cosa per trovare il coefficiente b però la cosa non funziona purtroppo perché? per individuare b dovrei moltiplicare per che cosa? per z meno 1 al z meno 1 al quadrato d'accordo? qua sparisce effettivamente z meno 1 al quadrato qua z meno 1 al quadrato su z meno 1 quindi z meno 1 se ne va a 0 per z tende a 1 questo per z meno 1 al quadrato per z tende a 1 va a 0 idem qui i problemi dove stanno qui? questa sta qui il problema è che qua ho z meno 1 al quadrato qua ho z meno 1 al cubo quindi 1 su z meno 1 per z tende a 1 tende a infinito questo e idem qui d'accordo? quindi non posso calcolare i coefficienti b e c e b eppure c posso calcolare in questo modo d'accordo? vi lasciamo le sospese andiamo a b per calcolare d posso applicare questo metodo ritrovate? cosa devo moltiplicare? cancello a cosa? scusa per calcolare d? eh? non devo moltipliare eh moltipli ambi i membri per z meno 2 allora adesso lasciamo scendere un'altra volta quando moltiplici per z meno 2 questo qua viene z meno 2 per z che tende a 2 se ne va a 0 qua z meno 2 per z meno 2 se ne va tutto ne va a 0 idem qui qui sparisce z meno 2 resta soltanto d e questo viene z meno 2 per z che da 2 tende a 0 quindi da destra viene soltanto d a sinistra cosa viene? questo sparisce per questo dipende che tende a 2 questo è 2 meno 3 è meno 1 meno 1 poi 2 meno 1 è 1 quindi questo andrà via meno 1 quindi viene meno 1 ritrovate? quindi per il trato d uguale meno 1 ragazzi ora la navovo sarà calcolare e e qua abbiamo utilizzato b meno 1 per z meno 3 e poi lì per z che tende a 3 d'accordo? ok quanto viene? questo resta a destra è soltanto il punto E a sinistra cosa viene? questo sparisce d'accordo? cosa viene? viene 1 fra 3 meno 2 e 1 3 meno 1 e 2 e 8 viene 1 ottavo trovi? posso essere anche 1 ottavo per essere da calcolare b e c possiamo fare ragazzi per esempio vedersi in modo di farlo facciamo in modo di farlo primo modo che possiamo sostituire a z due valori molti esi però diversi dai valori che è nulla e quindi diversi da 2 3 e 1 per esempio sarà valore 0 e 4 vediamo che si esce fuori d'accordo? che abbiamo un sistema se diamo a z da valore 0 cosa otteniamo? qua vediamo così se l'uomo è 0 qua viene 6 qua viene meno 1 è uguale meno un sesto uscita? adesso poi seguite bene tutti è uguale a qualcosa viene a valore 0 viene meno 1 viene meno un mezzo ritrovate? il nuovo valore 0 va viene più b 0 viene meno c dove 1 e 0 viene un mezzo dove 1 e 0 viene meno un ventiquattresimo d'accordo? ti do dai? e la valore 4 mi danno valore qualsiasi 6 e la valore 4 quando do valore 4 poi sai 4 e 4 più 16 16 poi 5 e 4 meno 20 più 6 16 20 20 20 più 4 più 2 6 più 2 quindi viene a più 2 4 poi 4 meno 1 che 3 27 quindi viene 50 58 d'accordo? è uguale adesso 4 meno 1 è 3 29 no è 3 27 27 27 per 2 più di 4 meno 1 e 3 più 4 meno 1 e 3 più 4 meno 1 e 2 meno un mezzo più 4 più 1 8 4 andiamo a fare di 4 d'accordo? d'accordo? guardiamo un po' qui posso cancellare meno 1 mezzo e più 1 mezzo d'accordo? e qui posso cancellare più 1 e qui più 1 e qui meno 1 e qui e qui ci vuole fare ci vuole moltiplicare tutto qua per 3 per esempio ragazzi vi guardate a questo punto c'è la stessa qua la prima per 3 4 moltiplici per 3 questo viene 3 questo sparisce questo viene 3 e questo viene 3 d'accordo? quindi se sommiamo membro a membro cosa otteniamo? viene è quella da scrivere allora vediamo un po' viene meno un sesto più questo e questo viene b più 4 più 4 terzi c e c se ne vanno con questo resta più meno 3 mezzi meno 24 resi più 3 d'accordo? e poi qui c'è il cavale poi vediamo se possiamo il cavale c da questo qui c'è c'è uguale a c'è uguale a 3 mezzi meno 3 ottime meno 2 terzi ragazzi ragazzi ritagiamoci più da quello 0 2 2 3 4 8 1 2 2 6 4 1 5 verificazione 24 11 16 per 3 quarti per 3 quarti quando fa questo? 36 meno 4 32 meno più 33 24 24 34 34 quindi c è uguale non qui ah sì sì 8 8 12 d'accordo? adesso al posto in B diviene 2 quarti al posto in C 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 2 di 0 meno 3 in C un mezzo d'accordo? vi trovate ragazzi con i conti ragazzi adesso vediamo un altro modo per calcolare i coefficienti B e C bisogna lasciare qui sotto portate un po' le decancellate quando riusciamo a scrivere va beh, cancelliamo il problema si è proprio fatto la chiusura non sappiamo per ricontrollare se l'avevano fatte bene cancelliamo ok ragazzi un altro modo per calcolare i coefficienti B e C guardiamo la forma che abbiamo fatto oggi a lezione cosa diciamo? se z da 0 è un polo di ordine N se K è compreso tra 1 ed N possiamo scrivere z da 0 è un polo di ordine N un salto intiga quindi a chi però di K appartenente all'insieme 1 virgola puntini e puntini N chiuso la varietta sigla C meno K da C meno K è uguale a 1 fratto N meno 1 fattoriale il limite per z che tiene a z a z della derivata di ordine N meno 1 z N meno 1 e cosa? di f di z che è z meno z da 0 elevato alla N più questa è la donna K meno 1 ricordate? quella forma che abbiamo mostrato stamattina se z è un po' in ordine N per f d'accordo? allora vediamo un po' ragazzi vediamo qua questi coefficienti questo e questo allora in questo caso N quant'è? N questo è un rompolo di ordine 3 quindi N è uguale 3 d'accordo? quindi a fare qua devo metterci qua sarà 3 meno 1 2 e qua sarà pure 2 poi chi è questo coefficiente? e chi è questo coefficiente? questo è c meno 1 quindi applicare questa qua deve fare K uguale a 1 per ottenere questo da prendere K uguale a questo è c meno 2 K uguale 2 2 si mi ha fatto bene i conti bene i conti la stessa cosa d'accordo? però calcolarci C meno 1 questo è uguale a 1 N è uguale 3 meno 1 2 1 fratto 2 fattuale 1 mezzo il limite per z che tende a z di ripresa base 1 valeranno l'ordine 2 3 meno 2 della nuova funzione f di z che è questa funzione qua si chiama qualcuno che moltiplica z meno 1 ragazzi dobbiamo mettere qui dobbiamo calcolare C1 C meno 1 che avrebbe K uguale a 1 1 meno 1 è 0 quindi resta A cuba N vuole 3 d'accordo? stai trovato? perché meno C meno 1 perché voglio calcolarmi questo coefficiente qui perché abbiamo visto prima che questo qua si calcola facilmente d'accordo? all'inizio si calcola facilmente i problemi sono su questi qui abbiamo dovuto fare il sistema quindi abbiamo in modo alternativo abbiamo dovuto applicare anche agli altri questo metodo è ben utile perché con i linee si calcola subito quegli altri coefficienti d'accordo? devo calcolare questo qui allora semplificare questo è uguale ad un mezzo il limite per 0 che tende a 1 ragazzi faccio fare la derivata seconda cosa faccio? faccio la derivata prima e poi faccio la derivata e la derivata prima quindi faccio la derivata rispetto a z d su d z viene in frazione mi faccio la derivata di questa funzione d'accordo? cosa viene? questo questo è uguale ad un mezzo il limite per z più tende a 1 io faccio la derivata di questa funzione quindi viene z quadro meno 5z più 6 al quadrato alla parte ora la derivata di questo viene meno 2 che moltiplica z quadro meno 5z più 6 al quadrato meno 2 non vogliamo la valentia 2 adesso c'è una valentia z quadro meno 5z più 6 che moltiplica 2z più 5 e va a fare tutte queste linee per z che tende a 1 vediamo un po' ragazzi questo non lo posso semplificare no? quindi qua qua viene 1 no no e qua 3 poi ragazzi allora che cosa c'ho qui? io c'ho qua meno posso metterci qua un più e quindi c'ho 2z meno 5 al quadrato d'accordo? però mettiamoci qua più 2z meno 5 al quadrato qui e questo lo sarà proprio questo è il punto z uguale a 1 questo è uguale a 1 mezzo poi il punto 1 questo viene 1 meno 5 fa meno 4 più 6 fa 2 quindi viene un ottavo no sotto no sotto no sotto poi questo fa 2 ma questo meno 4 poi questo fa 2 2 4 questo meno 5 no scusa il punto 1 il punto 1 sì questo è il punto 1 quindi questo viene 2 questo viene meno 3 al quadrato 9 per 2 18 7 ottavi ci dobbiamo ragazzi il nostro coefficiente è proprio 7 ottavi vedete? abbiamo fatto me di conti prima d'accordo? calcoliamo questo coefficiente perché si semplifica 4 e poi diventa 3 se poi quello là succede che si moltiplica e diventa questo ho semplificato diviso tutto per z quadro meno 5 z più 6 questo cresce 2 questo questa quant'è? la 2 diventa 1 questa è la 4 diventa 2 ok se non ce l'ha ragazzi ok calcoliamo calcoliamo questo coefficiente qui questo coefficiente c meno 2 dello sviluppo della funzione rispetto al punto di un intorno del punto 1 quindi questo è c meno 2 quindi applicare un'altra volta questa funzione n è sempre 3 perché 1 è sempre un po' di ordine 3 d'accordo? quindi n è un mezzo il limite per 0 che tende a 1 la derivata sempre di separata seconda perché n è sempre uguale a 3 la mia funzione che moltifica adesso? k quante ragazzi? 2 2 meno 1 è 1 3 più 1 4 vi trovate? qua posso semplicitare vi trovate ragazzi? d'accordo questo è uguale un mezzo il limite per z più t a 1 della derivata rispetto a z viene di frazione sotto cosa viene? questo al quadrato la derivata di questo quant'è? 1 per questo non derivato quindi per z z4 meno 5z meno 5z più 6 meno numeratore z di 1 e moltiplica tra di questo quant'è? aperta tonda 2z 2z e riuscire e riuscire d'accordo? d'accordo? facciaci la derivata? no facciate questa roba qui allora linee di frazione no un metro si linee di frazione linee di z ci vediamo qua sotto vai perché non c'è la derivata del numero 2 d'accordo? dalle questo quant'è? 2z meno 5 per fare meno la derivata di questa roba qui quindi la derivata di questo quant'è? 1 quindi meno aperta tonda 2z meno 5 meno z meno 1 che moltiplica la derivata di queste due tutto questo deve moltiplicare il numero 4 questo metta la valenza 4 e moltiplica meno meno il numero 4 Sì, se si è un po' di piccata, non ciò che ciò. Sì, è tranquillo. 1 1 2 2 2 2 2 2 z4 meno 5z più 6 per 2z meno 5 d'accordo? e questo per z che tende a 1 questo è uguale poi si fa come ne pariva le summe d'accordo? come ne pariva le summe non si riuscite, esatto così uguale lasciamo qua viene, in mezzo linea di frazione ora un po' questo possiamo semplificare questo c'è stato qui questo c'è stato qui questo c'è stato qui allora allora, poi questo qui non c'è l'altro questo questa è la linea 2, no? 2 al cubo è 8 poi qua se vi metto 1 viene 2 meno 5 fa meno 3 poi questo c'ho poi c'ho 2 poi c'ho meno 3 poi c'ho 2 meno 5 è meno 3 però più più 3 più 3 poi ci sta questo fa 0 quindi 0 tende a 2 quindi tutto questo che moltiplica questo è 0 verrà? li trovi? 0 che moltiplica questo quindi fa 0 meno 3 poi questo fa 1 questo fa 2 sempre meno 2 questo è 2 questo fa 0 per 2 quindi viene 4 posto di 2 tc4 che moltiplica questo è meno 3 meno 6 meno 3 quindi viene no non meno 3 che moltiplica quindi viene 12 eh? 12 togli tutto è 12 vado ragazzi vedo così 12 quanto fa? 60 di quantità più uguale più uguale due quarti anzi non è due quarti coefficienti c'è per esempio d'accordo? ragazzi voi dovete applicare questo metodo anche per calcolarvi gli altri coefficienti d'accordo? però se volete calcolare questo coefficienti potete farlo questo coefficiente dovete mettere qui questa formula tutto dipende di conti qui dentro dovete mettere qui a posto quando viene dovete mettere queste 3 k uguale a 3 3 meno 1 è 2 3 2 5 quindi dovete mettere z alla quinta d'accordo? però non conviene in questo caso in questo caso applicare e se volete con questo metodo con la verga sui coefficienti d'accordo? tra rispetto a questo per z che tende a 2 in questo caso n è 1 scusate, fare questo qua per esempio viene questo è un po' la derivata cosa vuol dire la derivata di ordine 0? vuol dire non stai facendo nessuna derivata quindi f di z che tende a 2 di f di z per z meno z 0 per qui per 0 meno 1 però è l'uso tra gli altri casi che si calcula molto professionalmente con il metodo di stagione d'accordo canciano un prossimo lasciamo soltanto quello di sviluppo canciano da qui in poi di stagione ragazzi facciamo il suo riferimento perché siamo nel piano insegna il riferimento che siamo da provare il signale è il signale di stagione allora il signale di z questa condizione 1, 2 e 3 per esempio ragazzi fate fare uno sviluppo di questa funzione uno sviluppo di LoRa rispetto al punto per esempio fate uno sviluppo di LoRa rispetto al punto 1 voi vedete quanti possibili sviluppi di LoRa vi posso fare rispetto al punto 1 che cosa dice ragazzi il teorema sui sviluppi di LoRa se voi avete una funzione definita la colore circolare di centro z a 0 e la funzione analitica in quella colore circolare voi potete fare lo sviluppo di LoRa rispetto al punto z a 0 ricordate? però per fare questa la funzione deve essere analitica in tutta la colore circolare di centro z a 0 allora vediamo un po' quante colore circolare dobbiamo fare lo sviluppo rispetto a quale punto abbiamo detto? 1 quante colore circolare di centro 1 avete dove la funzione è analitica? io trovo una prima colore circolare la prima colore circolare è la colore centrata in 1 e chiara raggio 1 dove ho escluso il punto 1 perché la funzione del punto 1 non è analitica quindi abbiamo la circolare che sta qui chi sarà? abbiamo la funzione su te c'è un sacco z z è tale di 1 questa di 1 z appartenente a c tale che la distanza tra z a meno 1 è estremamente maggiore di 0 e minore di 1 d'accordo? questo è la prima colore circolare in questo insieme ci ho presi punti che appartengono a c tale che la distanza tra z e 1 è estremamente maggiore di 0 quindi ho escluso il punto 1 ed è minore di 1 d'accordo? in questo cerchio bucato la funzione è analitica la mia funzione è analitica questo è il primo cerchio quindi le vostre cerchioni fanno sfruttore rispetto al punto 1 vi trovate? adesso c'è un'altra cosa ragazzi però ci sono altre colore dove la funzione è analitica per esempio io non posso avvargarmi di più non posso funzionare per esempio il cerchio il colore di centro 1 e il raggio 1 più 1,5 cioè non posso funzionare questa colore ragazzi che trovate questi insieme qua perché in questo punto la funzione è analitica e quindi non funzionano sul piccolo a prego fa un'altra cosa perché deve essere funzionale in tutto la corona posso considerare D2 le z appartenenti a C tale che la distanza tra z meno 1 è maggiore di 1 ed è minore di 2 D1 è questa qua d'accordo? questa è D1 escluso il punto escluso il punto 1 poi chi è B1 chi è B2 chi è B2 le z appartenenti a C tale che la distanza è tra 1 la z è 1 è maggiore di 1 è minore di 2 quindi è questa colore qui i punti tali che la distanza tra z è 1 è maggiore di 1 ed è minore di 2 in questa colore la funzione è analitica perché dove stanno le singolarità? le singolarità stanno in 1, 2 e 3 quindi stanno sul cambio sulla frontiera io le sono messe all'interno della colore vedete? quindi qui la funzione è analitica quindi posso fare qui ci sta un sviluppo di rara della funzione in questa colore rispetto al punto 1 poi ci sta ancora una terza colore dove la funzione è analitica quindi questo è B2 d'accordo? poi c'è una terza colore della funzione è analitica B3 z appartenente a c anche la distanza tra z meno 1 è maggiore di 2 che sarebbe questa è di 3 d'accordo? quindi in conclusione io ho trovato ho 3 colore 3 colore di punto centrale di centro 1 dove la funzione è analitica e quindi mi aspetto 3 sviluppi di rara rispetto al punto 1 diversi in ognuno di queste colore è chiaro? quindi calcoliamo ci facciamo sviluppi di rara di queste di queste funzioni di questa funzione ma ragazzi guardate queste funzioni sono già sviluppate rispetto a sviluppi di rara vedete? questa qua è una sviluppi di rara qui ci sta fondando la parte caratteristica ci sta notando il termine c-3 1 fratto z meno 1 idem questa questa è la funzione c'è solo la parte caratteristica in piastro avviate tutto questo scusate prendendo questa parte qua questa funzione è non sviluppi di rara vi trovate? questa è la parte caratteristica questo è il termine di ordine 1, 2 e 3 rispetto al punto quindi c'è sviluppato questa andiamo a svilupparci su queste due funzioni ancora vediamo come fa risultato c'è la funzione 1 fratto z meno 1 questo riscaldi su 4 più piccoli perché non ce la facciamo non avanti ci riamoci allora 1 fratto z meno 2 ragazzi cosa voglio fare io? voglio fare lo sviluppo rispetto al punto iniziale 1 quindi ne compare il punto 1 c'è poco da fare z meno 1 però cosa faccio? sottrago 1 e sommo 1 questo è uguale fa 1 fratto z meno 1 poi sono più 1 quindi più 1 meno 2 meno 1 si trovate? ho sottratto e sommato 1 qui io voglio far compagire voglio farlo rispetto al punto 1 quindi devo far compagire z meno 1 come la fare? quindi fratto di z meno 1 sottrarre 1 e sommare quindi ho scritto z meno 1 più 1 meno 2 d'accordo? z meno 1 e poi ci sta meno 1 ok ok questo non conta quello che c'è qua il coefficiente non ci importa quello è un coefficiente e poi lo moltiplichiamo d'accordo? io per soltanto 1 fratto z meno 1 qui sul primo primo 1 fratto z meno 3 poi lo moltiplichiamo meno 1 ottavo qua lo moltiplichiamo per meno 1 allora ragazzi cosa facciamo? mettiamo in evidenza il coefficiente il coefficiente questo è uguale a 1 fratto meno 1 d'accordo? che avessi in evidenza il coefficiente ragazzi vi ricordate che abbiamo fatto gli sviluppi di loro noi dovremmo arrivare a sfruttare la serie geometrica la nostra cambiamo in mente la serie geometrica sommatoria la serie che va tra 0 che più più W all'n uguale a 1 fratto 1 meno W se rimote 2 e 1 vi ricordate la serie geometrica? allora ragazzi io voglio sempre sfruttare la serie geometrica allora ragazzi guardate questo è lo sfido comunque meno 1 faccio fratto 1 meno z ragazzi ragazzi questa è la somma di che cosa? questa è la somma di quale serie? della serie geometrica? dove a posto di W ci ho messo z meno 1 se però se questa quant'è? eh questo è vero se il modulo più e meno di 1 quindi questa sarà la somma della serie dove a posto di W ho messo ho messo z meno 1 se il modulo z meno 1 è minore di 1 d'accordo? qui questo posso scrivere uguale meno sommatorio su n che vale da 0 più infinito di 0 meno 1 alla n se ragazzi stanno a cercare quella roba lì? cioè rivediamo se il modulo questo se il modulo di z meno 1 è minore di 1 cioè ho fatto lo sviluppo di questa funzione in questo cerchio nel cerchio di 1 vedete? cerchio di 1 serie di potenze adesso ripetiamo ecco ripetiamo invece di mettere in evidenza invece di mettere in evidenza il coefficiente mettere in evidenza z meno 1 d'accordo? gli scriviamo c'è che si vede qua che ci serve mi serve molto la mano 1 fratto è uguale vediamo 1 non così più la fe non si vede non è possibile meno 1 meno 1 d'accordo? questo è uguale a 1 fratto mettere in evidenza z azitare in evidenza z meno 1 meno 1 d'accordo? ragazzi questo è cos'è 1 fratto 1 fratto 1 meno 1 su z meno 1 che cos'è? è la somma di una serie geometrica dove al posto più e più avete messo 1 fratto z meno 1 se però il modulo di 1 fratto z meno 1 è minore di 1 quindi cosa potete scrivere? come? sommatoria 1 fratto z meno 1 per sommatoria su n che è il bario tra z e più infinito di 1 fratto z z meno 1 alla n che questo è uguale se c'è a sé il modulo di 1 fratto z meno 1 e minore di 1 d'accordo? ma chi è il modulo di 1 fratto z meno 1? il modulo è un rapporto uguale al rapporto dei moduli il modulo di 1 e 1 quindi 1 diviso il modulo di z meno 1 minore di 1 quindi il modulo di z meno 1 maggiore di 1 ritrovate? questo è la scritta maggiore di 1 questo è uguale sommatoria su n che vale fra 0 più infinito di 1 fratto ragazzi vedete per la funzione 1 fratto z meno 2 vediamo due sviluppi rispetto al punto 1 qua sono i due sviluppi 1 in b1 vedete? è il primo e l'altro dove? nel complementare di b1 perché questo? perché la funzione 1 fratto z meno 2 dov'è la simbolità della funzione 1 fratto z meno 2? nel punto 2 questo è 1 d'accordo? dovete fare lo sviluppo di questa funzione rispetto al punto 1 lo dovete fare dove dovete fare questo sviluppo? nelle colori circolari di centro 1 dove la funzione è analitica questa funzione dove c'è la simbolità? nel punto 2 quindi il primo sviluppo potete arrivare fino a 2 il cerchio di centro 1 e raggio 2 d'accordo? è quello che vi ho avuto se il modo di z è meno 1 fino a 1 il secondo sviluppo dove lo trovate? nel complementare di questo cerchio perché voi nel punto 2 non potete toccare il punto 2 d'accordo? quindi per andare ad essere nel complementare nel complementare non ci sono più singolarità nel complementare quindi nella linea di tutto il complementare il complementare è una corona circolare di centro 1 chi sono i raggi? il raggio piccolo è 2 il raggio grande è infinito è la funzione analitica qui quindi ammetto lo sviluppo di logare rispetto al punto 1 e questo è il suo sviluppo più logare vedete? fatto numero 1 prima osservazione quindi per questa cosa vedete tra 2 secondi più 1 qui dentro e 1 al di fuori secondo se la se lo guardate ragazzi lo sviluppo di logare di questa funzione in questo cerchio che cos'è? una serie di potenze perché una serie di potenze ragazzi? perché la funzione 1 fratto z1 è analitica in tutto il cerchio anche nel punto 1 la funzione analitica la simulare questa funzione è 2 non è 1 quindi questa funzione è analitica in tutto questo cerchio quindi è chiaro che vi trovate lo sviluppo di logare si riduce allo sviluppo di Taylor perché la funzione è analitica in tutto il cerchio d'accordo? ok facciamo questo andiamo alla funzione 1 su z meno 3 ragazzi abbiamo la stessa cosa facciamo sempre è lo stesso quindi andiamo a sottrarle e sommare 1 io voglio fare lo sviluppo rispetto al punto 1 d'accordo? ma serve un po' viene più d'accordo? d'accordo? cosa si fa? la prima volta si mette in evidenza la costante meno 2 d'accordo? un fratto 1 meno fratto 2 d'accordo? ragazzi questa è la somma di quale serie? meno un mezzo sommatore no insomma quale serie è questa? sembra serie di giocatori ragazzi chi è la maggior? z z meno 1 z meno 1 diviso 2 a n questo è vero se il modulo di z meno 1 il modulo di z meno 1 diviso 2 e il minore di 1 ma cosa vuol dire? chi è il modulo di z meno 1? il modulo di un rapporto con il rapporto ai moduli quindi il modulo di z meno 1 diviso il modulo di 2 il modulo di 2 è 2 quindi il modulo di z meno 1 diviso il minore di 2 ragazzi questo è il modulo di scrivere questo lo stai dentro z meno 1 a n fratto 2 a n più adesso vi faccio un'altra volta la camera di camere in evidenza z meno 1 questa qua a 1 fratto z meno 1 queste cose ragazzi 1 fratto 1 meno 2 su z meno 1 1 diviso 1 meno 2 su z meno 1 e la somma di quale serie? è una serie di geometri di ragione 2 fratto z meno 1 a n d'accordo? questo è vero quando è migliore cioè se il modulo di 0 meno 1 è maggiore di 2 questo è un modulo di 0 questo è un modulo di 0 e quindi di 2 alla n fratto z meno 1 alla n più questo è un modulo di 0 d'accordo? questa lo scrive invece fratto 2 a n più d'accordo? ragazzi qual è la ritrovata adesso? qua sta 1 qua sta 2 questa funzione 1 fratto z meno 3 dove c'è la singolarità? nel punto 3 quindi se fate lo sviluppo rispetto al punto 1 che cosa trovate ragazzi? dove lo fate lo sviluppo? nel cerchio di centro 1 e raggio 2 fino a trovare la singolarità vedete? questo qua vedete? questo qua lo trovate prima il modulo di 0 meno 1 minore di 2 questo è il cerchio di centro 1 e il raggio 2 perché questa funzione 1 fratto 0 è la singolarità nel punto 3 quindi voi potete fare lo sviluppo fino ad arrivare a toccare la singolarità d'accordo? quindi questo disco aperto lo ne fanno 2 ed è questo qua l'altro modo lo deve fare nel complementare di questo disco cioè il modulo di z modulo di z meno 1 maggiore di 2 per complementare di questo disco dove la funzione è analitica perché qua la singolarità sta qua questa funzione in questo punto sta la singolarità quindi voi dovete fare nel colore di circolo non c'è una singolarità quindi da qui potete avvargarmi fino a qui quando devo fermarmi? però potete partire con un altro colore che sta la giusta questa colore qua d'accordo? e avete questo secondo sviluppo poi guardate vedete anche nella prima corona la prima corona avete lo sviluppo di Taylor non ci sono parti caratteristiche vedete? perché? perché la funzione è un colore z meno 3 è analitica in tutto questo disco anche nel punto 1 è analitica e quindi è naturale aspettarsi lo sviluppo di Taylor cioè la parte caratteristica che sta in 0 ok adesso ragazzi mettiamo insieme i nostri risultati per i tre sviluppi allora vediamo un po' dove scriviamo? scriviamo qua f di z ragazzi mettiamoci nel primo cerchio nel cerchio di centro allora quindi abbiamo trovato due sviluppi per uno su z meno 2 e due sviluppi per uno su z meno 3 adesso abbiamo messo insieme tutte queste informazioni per scriverci uno sviluppo della funzione f di 0 mettiamoci nel primo cerchio abbiamo detto per questa funzione troveremo tre sviluppi 1, 2 e 3 per evitare le singolarità e questa funzione c'è tre singolarità 1, 2 e 3 d'accordo? allora il primo sviluppo dove sarà? sarà in B1 quindi nel disco forato di centro 1 e raggio 1 e chi è f di z? f di z è uguale a un mezzo per uno fratto z meno 1 al cubo più tre quarti per uno fratto z meno 1 al quadrato più 7 ottani per uno fratto z meno 1 allora, questo non c'è nulla da fare io ho solo potenze di z meno 1 adesso ho meno 1 su z meno 2 d'accordo? io voglio scrivere lo sviluppo in questo in B1 quindi quale prenderò di questi due? il primo o il secondo? il primo prendo, d'accordo? il modulo di z meno 1 minore di 1 quindi viene meno, lascio un meno 1 per meno fa più quindi fa più sommatoria su n che vale tra 0 e più infinito di z meno 1 al n d'accordo? poi io faccio lo sviluppo di 1 fratto z meno 3 quindi è meno un ottavo più un ottavo ragazzi per z ho due sviluppi uno se il modulo di z meno 1 è minore di 2 e uno se è minore se è maggiore di 2 poi prenderò siccome devo stare che è minore di 1 che ho due case per questo il modulo di z meno 1 è minore di 2 poi il modulo di z meno 1 è maggiore di 2 io adesso sono interessato avete cosa succede? il modulo di z meno 1 è minore di 1 quindi ho migliare il primo sviluppo quindi questo è qua no? no? è successo qua sì, questo qua quindi è un mio qua il modulo di z meno 1 questo se se si, se il modulo di z meno 1 è minore di 1 ed è maggiore di 0 vedete che queste qua per 0 uguale 1 sono meno queste cose sono le f di 0 uguale 1 quindi qua state in B1 state facendo la vostra sviluppo in B1 d'accordo? adesso andiamo su B2 F di 0 siamo sotto non lo ricordi tali qua vedete adesso ragazzi io sto in B2 B2 chi è? la z è tale che il modulo di z meno 1 è maggiore di 1 ed è minore di 2 per la funzione 1 fratto su z meno 2 quale sviluppo mi prendi? il primo e il secondo? il secondo perché se mi prendi il primo vale vale soltanto qui dentro il secondo vale al di fuori di questo siccome sono in questa corona devo pigliare il secondo quindi viene il secondo è questo qua quindi è meno sommatore 2 che vale fra 0 1 fratto z meno 1 alla n più 1 poi per il terzo io ho due possibilità cioè il modulo di z meno 1 meno di 2 e il modulo di z meno 1 maggiore di 2 io dove sto io voglio fare in B2 in uno sviluppo quindi il modulo di z meno 1 è minore di 2 quindi voglio migliare ancora il primo sviluppo per questo qui per z meno 2 d'accordo? quindi qua meno 1 8 è la stessa cosa meno 8 d'accordo? ragazzi abbiamo ancora un terzo sviluppo da fare questa ridaccia quando il modulo di z meno 1 è maggiore di 2 con il modulo di z meno 1 maggiore di 2 nel primo caso quale si può prendere? il primo o il secondo? il secondo perché questa sarà maggiore di 2 quindi la maggiore ragione sarà maggiore di 1 qui vedi il secondo sommatore qui c'è un meno 1 fratto z meno valente poi ragazzi per la seconda quale prendo? il modulo di z maggiore di 2 e il modulo di z meno 1 maggiore di 2 il secondo di 1 quindi viene più un ottavo 2 2 2 6 maggiori d'accordo? quindi raggiungiamo di 4 di 3 sviluppi questo è questo è in B1 in B2 e in B3 d'accordo? ragazzi se voglio capire che tipo di singolarità se voglio rivedere no? che tipo di singolarità è 1 quali altri sviluppi devo prendere in considerazione? ricordate lo sono detto oggi a lezione per capire il tipo di singolarità possiamo vedere la parte caratteristica della funzione proprio quale sviluppo? in quale dei tre intorni devo andarlo a vedere? in quale dei tre colore? B2 eh? B1 B1 detto possiamo considerare uno sviluppo di un intorno del punto intorno del punto z0 l'intorno fra il punto z0 questo P1 ecco per vedere che tipo di singolarità è già lo sappiate che tipo di singolarità è per ritrovare e rivedere dovete andare a studiare a quale sarà la funzione e lo sviluppo nell'intorno B1 nel B1 è questo qui è questo vedete? allora vedete questa è parte regolare questa è parte unico modo questa è una cosa è parte regolare la parte caratteristica è questa qui e c'è giusto? arriva termine 1 fratto 0 0 1 al cubo con coefficienti più verso 0 quindi è un po' di ordine 3 d'accordo? ragazzi per esempio non mi vengono in testa di andare a vedere per esempio questa qui questa qui se guardate qui vedete la parte la parte caratteristica c'è infiniti termini non è che si ferma 1 fratto 0 1 al cubo c'è tutti questi termini allora se guardate di talore di talore allora e poi si chiama è la singolarità senza il no perché pensa bene il tipo di singolarità bisogna considerare lo sviluppo di Lorat nell'intorno forato del punto nell'intorno forato del punto è questo non è né questo né quest'altro d'accordo? questo è l'intorno forato del punto il primo intorno deve andare a considerare quindi il primo intorno si richiamano questa è la parte caratteristica d'accordo? poi il residuo chi è il residuo? ragazzi il coefficiente vi ho detto è c-1 ma sempre c-1 dove? considerano dove? di quale sviluppo? sempre dello sviluppo dell'orat dell'intorno forato quindi devi un piliare questo sviluppo e questo 7 ottavi è il residuo questo viene il residuo non è che di pigliare un altro valore ragazzi io l'ho fatto per il punto 2 ho dovuto farlo per un altro punto qualsiasi ho dovuto fare per il punto 1 ho dovuto fare per il punto 2 o per il punto 3 se facciamo per il punto 2 questo qua sarà tale e quale questo non si muoveva no questo bisogna cambiare questo qui però bisogna stare attenti qua ragazzi bisogna cambiare anche questi 3 d'accordo? e come si fa qua? qua io riesco a farlo qua riesco a farlo vedete sta fatto qua come vuol dire dipende se faccio rispetto al punto 1 bisogna fare di come si rispetto al punto 1 se faccio rispetto al punto 1 rispetto al punto per esempio 2 o rispetto a come si trattano questi termini bisogna farli vedere ragazzi guardate questi esercizi fanno tutti lo stesso modo se avete capito 1 è arrivato tutti qua lo stesso modo sono stupido un esercizio perché sono meccanici facciamo rispetto al punto rispetto al punto 1 no rispetto al punto 2 sì rispetto al punto ragazzi dobbiamo fare qui cancellare tutto tranquillo le faccio ragazzi non le faccio più questi esercizi se avete capito come si fanno fa tutto lo stesso modo facciamo rispetto al punto 2 e 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 facciamo rispetto al punto 2 questa volta d'accordo? rispetto al punto 2 le esercizioni sono 1,2,3 quindi la prima colore circolare di centro 2 dove la funziona la vedica qual è? eh? c'è anche la colore circolare di centro 2 questa qua andiamo la via c'è un d2 se cambiamo un po' z appartenente al c tale che di z meno 2 è maggiore di 0 e del minore di 2 questa, d'accordo? è la prima colore questo è il d1 d'accordo? più di questo volete allargarvi perché incontrate le due singolarità della funzione d'accordo? e poi ci sono altre colore dove la funzione è analitica? eh? esattamente il resto di 2 è uguale di z di z appartenente a c allora ragazzi allora ragazzi la funzione 1 fratto z meno 2 non c'è nulla da fare è già sviluppata ma su 1 fratto z meno 3 cosa devo fare ragazzi? sottrarve a questa rispetto al punto 2 quindi sottrarve e sommare 2 mettiamo la costante in evidenza non c'è nulla da fare un po' più grande così no? la camera non è che inquadra nulla no? no ragazzi una cosa z meno 2 deve restare sempre così deve restare sempre z meno 2 quello dovete muoverlo perché lo dovete fare tutto rispetto al punto 2 quindi vi è completare z meno 2 quindi non mettete dice meno z più 1 d'accordo? quindi sta qua per aver in evidenza meno 1 quindi z meno 2 di dis meno 1 ah scusi più 1 che è uguale questo è altro ok meno 1 fratto 1 no 1 meno no 0 non è un 1 0 2 0 sempre 0 e il punto deve restare 0 meno 0 da 0 quello che avete toccato d'accordo? e questo è uguale meno il sommatore su n di uguale da 0 in fila di 0 meno 2 alla n 7 il 9 e il 9 e il 9 d'accordo? e questo è uguale insomma cosa set più finito quindi se il modulo di z è meno 1 lascio un po' più su maggiore di 1 questa è la questione come sommatoria meno 2 questa è la funzione è tra due sviluppi uno sviluppo in questo cerchio per questa funzione c'è la singolarità del punto 3 un punto di fuori di questo cerchio adesso vediamo la funzione la funzione uno fratto z è meno 1 è la stessa cosa come puoi scriverla? ragazzi ti sembra arrivare a 1 meno qualcosa d'accordo? come puoi scriverla? allora la funzione è sempre 1 fratto 1 meno w e w è 0 meno 2 in questo passo uno sviluppo qui vuoi? come puoi? come puoi? rin, 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 tranzè, rinfinit No, aspetta, non è finita La potenza è n, ovviamente No, non va là Tutto questo Di relevarlo alla n D'accordo? Questa è la parola, z è meno 2 fratto meno 1 tutto alla n D'accordo? Questa è se Il modulo di z meno 1 fratto meno 1 È un cambianino, eh? È minore Ma il modulo di z meno 2 Lo trovate? Minore di 1 No, non è Soundo, no? Grazie a tutti. 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 Ragazzi, vi ricordate che la serie derivata ha lo stesso raggio di convergenza della serie di partenza e converge anche uniformemente da dentro. E poi potete scambiare il segno di derivata con il segno di serie. scambiamo scambiamo e deriviamo una volta scambiamo è passaggio successivo da fare un po' è uguale n cosi se n-1 ragazzi, in questo caso n non parte più da zero perché il primo termine era una costante, quando la legale sparisce quindi n parte da 1 però c'è un po' che assiccia che dice c'è ancora il modulo del modulo di z più meno di z d'accordo? adesso vi faccio la stessa cosa però se il modulo di z meno 2 è maggiore di 1 e l'altro non 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 meno 1 meno n meno 1 meno 1 quindi viene 1 fratto qua è arrivato a meno n meno 1 meno 1 quindi viene sotto 1 fratto z meno 2 più 2 se in modo di z non questo, cancela in modo di z meno 4 ci resta ancora 1 fratto z per 1 al cubo non è freddo questa sommatoria che è in parte da un'altra che più termina è la costante allora noi siamo arrivati a 1 fratto 1 fratto z per 1 al cubo d'accordo? forse non c'è una cosa scusa, scritti la derivata seconda di 1 su 1 meno z su z, su z meno 1 questa è cosa uguale alla derivata rispetto a z della derivata prima la derivata prima chiede meno 1 fratto z meno 1 al quadrato d'accordo? ciò c'è la derivata seconda questo puoi scrivere come la derivata rispetto a z d su z per quanto 1 al meno z meno 1 a meno 1 quindi messo uguale quindi meno per meno fa 2 per z che cosa avete per scrivere che 1 fratto z meno 1 al cubo è uguale è uguale a 1 mezzo la derivata rispetto a z la derivata rispetto a z per tato 1 meno 1 fratto z meno 1 al quadrato non ci resta che derivata è uguale a questo è uguale a questo d'accordo? noi lo sviluppo di 1 fratto z meno 1 al quadrato ce l'abbiamo non ci resta che derivare quello lì non ci resta che derivare quello lì è chiaro? si trovate? si trovate? allora scena giusta come una sola 1 fratto 1 fratto z meno 1 al cubo è uguale a 1 mezzo a meno 1 la derivata rispetto a z di 1 fratto z meno 1 al quadrato trovate ragazzi quindi abbiamo 1 fratto z meno 1 al cubo che vuole a meno 1 mezzo la derivata rispetto a z di 1 fratto z meno 1 al quadrato che è uguale a meno 1 mezzo allora lo sviluppo di 1 fratto z è una cosa ce l'abbiamo? è questo qui d'accordo? quindi meno per meno fa più quindi la derivata rispetto a z la derivata rispetto a z la derivata rispetto a z quindi questo è uguale siccome ho una convergenza uniforme posso scambiare il segno di la derivata la derivata ha lo stesso elemento che la derivata ha lo stesso elemento di convergenza e la serie di partenza adesso ragazzi n parte da 2 perché qui è la costante il meno 1 alla n per n per n meno 1 per z meno 2 alla n meno 2 se c il modulo di z meno 2 e meno 2 lasciamolo fuori questo assoluto un mezzo fuori c'è questo qua meno per me c'è un mezzo per me fa più quindi il modulo di n per n meno 1 per n meno 1 per n meno 1 per n meno 1 1 fratto z meno 2 alla n più 2 che è uguale questo questo è un mezzo sommatoria su n derivata meno 1 alla n per meno n meno 1 poi questo ci avrò meno n meno 2 no? sì meno n meno 2 meno 1 tra parentesi meno n meno 2 meno 1 per 1 fratto z meno 2 alla n meno 3 se il modulo di z meno 2 è maggiore adesso esce tutti i circuiti da mettere insieme adesso d'accordo? trovi mettere insieme qui sotto d'accordo? ci servono giusto due diglie allora f di z è uguale a 1 mezzo allora 1 fratto z 1 al cubo è fino a questo qui quindi viene 1 mezzo viene 1 quarto insomma insomma allora su n che varie tra 2 più infinite 2 si di meno 1 alla n per n per n per n meno 1 per z meno 2 alla n meno 2 poi poi più però si cercano a scendere più 3 quarti z meno 2 e questo lo sviluppo quindi meno scusa meno 3 quarti sommatura su n che vale per n infinito meno 1 meno 1 alla n n per z alla n meno 2 adesso per z meno 2 alla n meno 1 poi più più 7 octavi questo qua insomma della su n che vale tra 0 più infinito di meno 1 alla n per z meno 2 alla n meno meno 1 su z meno 2 più almeno 7 octavi no meno 1 octavo scusa insomma della suona che vale da z più infinito di z meno 2 alla n se il modulo di z meno 2 meno 2 2 meno 1 qua adesso c'è al di fuori del cerchio f di z e un quadro qua fuori la prima viene un meno un quadro l' sommatore c'è che vale da z per infinito meno 1 alla n poi per meno n meno 1 per meno n meno 2 per 1 per z meno 2 per 1 fratto z meno 2 alla n più 2 poi per z meno 2 per meno 2 più 7 octavi insomma della suona che vale da z più infinito di meno 1 alla n 1 fratto z meno 2 alla n più 1 fratto z meno 2 alla n più 1 meno 1 fratto z meno 2 e poi lo prende questo più 1 più 1 più 1 più 1 suona che vale da z più infinito 1 fratto z meno 2 alla n più 1 se il modulo di z è maggiore di 1 vedete abbiamo trovato due sviluppi ragazzi vedete 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 nel primo se lo volete vedere questo è lo sviluppo vedete che tutto parte le varie un unico termine parte le varie è soltanto questo meno 1 fratto z meno 2 vedete vedete infatti c'erano solo termini parte caratteristica perché infatti quello è un po' cioè solo il coefficiente c-1 questo è un po' del primo ordine e infatti per vedere questo dovete vederlo nel primo cerchio in questo cerchio qua nel residuo è meno 1 d'accordo? non dovete andare a vedere cosa succede qua per capire il tipo di simulare ragazzi tutti questi esercizi saranno tutto allo stesso modo voi per esempio vedete questo esercizio questo qua fai un punto z da 0 a qualsiasi per esempio z da 0 uguale i o z da 0 uguale 3i più 2 d'accordo? e fate lo sviluppo rispetto a quel punto vedete lo stesso modo farò tutto lo stesso modo quindi non ne farò più questi esercizi sono tutti uguali ok